Non so se siete pronti a sta foto, vabbè, ve la faccio vedere. Raga, eccomi. Da notare sul tavolo tutto il cibo lassù che ci sta. Questa sono io. Qua pesavo penso più di 139, qua intorno ai 140, 141, 142. Eccomi. Quella ero io. Voi in quella foto vedete una ragazza che si ama? Vedete una persona che si ama? Io vedo tutto. Tranne una persona che si ama. Anzi, più guardo quella foto, e ne ho tante di foto così, e più mi faccio pena. Mi faccio pena e chiedo scusa al mio corpo. Adesso voi capite perché io dico voglio che mi si vedano le ossa qui, voglio la normalità. Voi in quella foto vedete una persona normale? Raga, cioè, quella ero io. Che era? Non so se era giugno, febbraio. Vedo una persona... Avete visto sul tavolo? C'erano gli M&M's, i Smarties, quello che è. Quello era il mio... Quello era il mio pomeriggio. Passare il pomeriggio a mangiare. E raga, ho tante foto. Più le guardo, più mi viene rabbia. Rabbia. E quanto ero bugiarda. Quando mi dicevano, ambra, ma tu mangi? No, io non mangio niente. Eppure mangio un po' di pasta e basta. La cena mangio solo una bistecca. Io da sola mangiavo un chilo e mezzo di fiorentina. Ma poi per diventare così. Io da sola mangiavo 500 grammi di pasta. Cioè, io... Ma si vede, non devo dirlo. Cioè, quella ero io. E quella ero io. Anche se dentro un po' la mentalità purtroppo rimane. Rimane sempre obesa. Comunque quella non era un'ambra in salute. Cioè, quella stava tutto il giorno su quella di sdraiala. Come si chiama? Poltrona. Gli ho fatto un buco. Perché ovviamente, stando lì tutto il giorno, giocando alla play, guarda. E mangiare, mangiare, mangiare. Un continuo mangiare. Beh. King, ma preferisci quell'ambra di quella foto o ambra di adesso, tu? E perché? Adesso mangio sano. Adesso mangio sano. Possiamo fare le passeggiate insieme. Perché capita che usciamo a fare le passeggiate adesso. Poi farò dei video. Se mi serve una cosa, scendo e me la prendo. Se serve una cosa, su salgo e me la prendo. Non c'è quell'ambra di diciamo, mi fa male qui. Amo, oddio, sto male. Oddio, amo, amo, amo. E lui mi diceva, ma smetti da mangiare se stai male. Ma perché? Smetti di mangiare, mi diceva. Ma lui non intendeva smetti da mangiare, non nutriti. Non nutrirti. Cioè, lui diceva, smetti di mangiare quello che mangi. Comunque, io prima avevo una dispensa piena di cibo. Adesso quella dispensa l'ho levata. Il giorno della dieta sono scesa e ho levato tutto il cibo. Tutte le cose sono lì. Raga, quella è ambra. Quella era ambra. E quando mi dite, eh, mangi poco, guardate quella foto e chiedetevi il perché io mangio poco. Io non voglio tornare così. E io voglio essere magra e normale. E in salute.